Non c'è più tempo per dormire sugli allori. La Dinamo, trionfatrice domenica in Supercoppa, è subito chiamato all'agonismo ufficiale. Primo match di campionato per il team bianco-blu in trasferta con un avversario temibile, Varese, cool professionale di Gianmarco Pozzecco. Domani sera, Palazzetto Varesino, debutto per due squadre che, almeno sulla carta, non possono ambire alla vittoria finale in campionato. Tre gli squadroni che per budget rinforzi quest'anno paiono irraggiungibili, l'Olimpia Milano, la Reier Venezia e la Virtus Bologna. Al di là dell'ambizione Scudetto, ritenuto un sogno dallo stesso coach frilano, si applaude in ogni caso la crescita esponenziale del basket italiano, che torna di nuovo agli antichi fasti. Varese è il team dal passato importante, che a fine agosto ha ingaggiato un giocatore di grande qualità, Jakovics, classe 1993, ruolo play guardia. Il mister Kaja occupa da tre anni la panchina dell'open job Metis dopo i fasti e le cadute di una carriera a fasi alterne, dallo Scudetto romano alla retrocessione di Firenze. Allinatore esperto, molto bravo nel gestire le forze a disposizione, darà filo da torcere al roster sassarese, che al momento, al netto dei trionfi, è ancora in cerche di una sua fisionomia. Pozzecco vuole automatismi e senso del gruppo per ottenere risultati importanti. I nuovi acquisti e paiono già a rappresentare un punto di forza. Vedi Gerrers, eletto miglior giocatore della finale di Supercoppa, e McLean, marcatore in costante doppia cifra. La strada inizia domani e sarà lunga, ma il team Sardo ha tutte le carte in regola per orbitare molto vicino ai grandi.